numero 4 l'acqua scooter yama explorer è un modello progettato per gli snorkelisti e subacquei più giovani navigando alla velocità massima di 4 chilometri all'ora con 60 minuti di autonomia consente di raggiungere una profondità di 10 metri questo acqua scooter è perfetto per immersioni poco profonde e avventure di snorkeling costruito in polipropilene super impermeabile e pesa solo 5 chili e 200 grammi batteria inclusa si trasporta facilmente la forma è idrodinamica e lo rende facilmente maneggiabile e direzionabile in acqua trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 yama si scooter per bambini dai 5 anni in su a un peso di un chilo e 600 grammi la batteria è inclusa ha un'autonomia in acqua di circa 30 minuti in base all'utilizzo raggiunge una velocità massima di 2 chilometri all'ora si scooter con caratteristiche da grandi a portata dei piccoli la batteria è agli ioni di litio design innovativo e compatto questo articolo è il migliore compagno di avventure acquatiche di ogni bambino l'elica è debitamente protetta da una griglia di sicurezza il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 2 questo si scooter il modello più piccolo e leggero della gamma scooter yamaa adatto ai bambini da 8 a 10 anni funziona fino a 60 minuti con una ricarica raggiunge una profondità massima di 3 metri e pesa solo 3 chili e 300 grammi batteria inclusa divertimento assicurato per i più piccoli al mare in piscina o al lago ottimo prodotto può essere trasportato senza nessuna fatica raggiunge una velocità massima di un chilometro e 6 all'ora grazie alla particolare forma della scocca che è fatta in modo da opporre poca resistenza all'acqua se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 l'acqua scooter yamaa è l'ideale per il divertimento acquatico dei più piccoli in famiglia naviga in piscina al lago o al mare alla velocità di 3 chilometri all'ora in questo modo i più piccoli vivranno meravigliose avventure acquatiche questo scooter subacqueo pesa solo 5 chili e 400 grammi batteria inclusa e garantisce fino a 90 minuti di divertimento in tutta sicurezza l'elica è protetta da una speciale griglia per evitare contatti fortuiti con l'utente al rilascio di anche uno solo dei pulsanti di attivazione il c scooter si arresta automaticamente puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione